Che facciamo? Non ho bisogno della tua completa collaborazione. La sacrazia. Che c'è? Ti piace guardare? No, no, era un controllo, scusate. Devi controllare da un'altra parte. Ancora qualche istante possiamo andare? Mi spiace averti messo in disagio. Il fine giustifica i mezzi, no? Bene, andiamo più a che torni. Ma casa è di là? Non vado a casa. Tu sentiti libero. No, no, ma ti accompagno, è tardi. Non puoi incamminare da sola. Non sulle un'altra parte. Non c'è? Non c'è? E c'è? Non c'è?